L'autunno e i suoi colori portano le giornate del FAI, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Luoghi affascinanti da visitare per vivere in pienezza, in particolare il nostro Abruzzo. Roberto Di Monte, presidente FAI Abruzzo e Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. Sicuramente un grande evento di piazza del FAI che ritorna per la tredicesima volta. Le delegazioni, quindi la rete dei volontari è impegnata per portare, per valorizzare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico della nostra regione e invitiamo tutti il 12 e 13 ottobre. Quanti luoghi saranno a disposizione dei cittadini e di chi voglia visitarli in Abruzzo? Allora, sono 700 circa quelli in Italia, in 360 città, noi ne abbiamo 30 in 12 tra città e borghi. Un bel numero. È difficile ovviamente citarli tutti. Qualche chicca? Sono tutti belli ed interessanti. Più che chicca sottolineerei le grotte di Pietrasecca a Carzoli perché stanno concorrendo per il censimento di luoghi del cuore. Per chi è informato sui luoghi del cuore, arrivare in buona posizione vuol dire poter finanziare delle attività che il FAI assieme a Intessa San Paolo mettono a disposizione dei luoghi scelti dai cittadini. Penso che quello sia il luogo emblematico di queste giornate per adesso. Come è possibile partecipare? Partecipare alle giornate FAI? www.giornatefai.it troverete tutte le informazioni. Ci sono gli elementi per poter trascorrere due giornate in diversi luoghi perché sono abbastanza vicini e raggiungibili. Presidente, tornano le giornate del FAI? Un modo per scoprire o riscoprire il nostro Abruzzo? Sì, noi lo sottolineiamo ogni anno con la nostra presenza come Regione, come Consiglio regionale anche per un sentimento di profonda gratitudine nei confronti del FAI che è un'organizzazione di grande importanza. Aggiungerei che anche il modo per una nuova narrazione delle nostre aree interne perché sono visite guidate in luoghi privati e pubblici, quelli privati soprattutto che vengono aperti appositamente, che generano grande curiosità. Quindi sono tanti i visitatori che vanno nei nostri borghi, anche quelli più piccolini, quelli su cui magari non si prende in considerazione troppo per una gita dominicale o per una visita culturale. In più, questo ci aiuta a mappare questi siti di grande importanza artistici e architettonici che poi possono orientare le politiche regionali anche per conservarli meglio. Questo è già accaduto in passato in alcuni centri in cui poi alcune residenze sono state oggetto di interventi di finanziamenti nazionali e regionali e stanno rifiorendo a un nuovo uso.